Sarà una giornata da ricordare quella di sabato prossimo 8 novembre per gli scout del Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani dell'Umbria. Alle ore 12 presso la Sala Nervi intitolata Papa Paolo VI in Vaticano, il Santo Padre incontrerà in udienza privata gli scout del Masci per celebrare il 60esimo anniversario della Fondazione del Movimento degli Scout Adulti con la festa dell'incontro e della fratellanza. Saranno numerose le delegazioni dall'Umbria, Masci, Gualdutadino, Foligno e Perugia che prenderanno parte all'incontro, tra queste anche un folto gruppo proveniente da Gubbio, dove pur non essendo ancora formalizzata la costituzione di un gruppo Masci, il Movimento Scout opera ininterrottamente da oltre 30 anni e affonda le radici addirittura negli anni venti del secolo scorso. La delegazione ugubina, guidata da Goffredo Bernabucci, storico capo scout del gruppo Gubbio I e successivamente dell'attuale Gubbio II, sarà composta da circa 50 persone che si ritroveranno in Vaticano fin dalle 9.30 per poi prendere parte all'udienza, dove sono attese circa 5.000 persone. Sarà presente tra gli altri anche Don Armando Minelli, sacerdote parroco e gubino, legato per molti anni all'esperienza dello scoutismo a Gubbio, che alle ore 16 celebrerà una santa messa per la delegazione ugubina alla Chiesa del Collegio Internazionale Agostiniano Santa Monica in Vaticano. Grazie. Grazie.